Ciao a tutti, noi siamo l'accompagniamo a Dare Binet, dico noi perché gli altri stanno montando, io sono qui che bevo il caffè e stasera faremo uno spettacolo che si chiama Un eroe sul sofà, uno spettacolo di teatro circo che è nato per il domenicale e per il teatro ragazzi. La nostra ricerca, quello che cerchiamo di fare nella vita è cercare un connubio tra il circo e il teatro, quindi mettere insieme un mondo fatto di tecnica e di performance con un mondo fatto di drammaturgia e emozioni. Il risultato spesso è, come dire, non posso dire parolacce, però diciamo che è una ricerca abbastanza complessa, noi ce la stiamo mettendo tutta con risultati che per alcuni sono eccezionali, magnifici, per altri invece più bassi e noi comunque siamo nel mezzo, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Noi ci siamo formati a Torino nella scuola di Circo Flick, poi siamo emigrati in Francia per continuare una formazione circense e poi ci siamo spostati di più sul teatro sempre in Francia, quindi ha un po' un gusto francese questo spettacolo. Cos'altro? Penso di aver detto tutto. Noi ci piace, aspetta, aspetta, aspetta che questa la dice sempre Alessio, noi ci piace un po' raccontare delle storie, noi siamo appassionati di storie e ci piace un po', come ho detto, cercare di raccontarle attraverso anche il circo e un pochino raccontare un po' i drammi umani ma facendo anche ridere. Per noi l'ironia è molto importante, anche perché già si piange abbastanza e noi cerchiamo un attimo di farci due risate sopra un po' le disgrazie che ci stanno intorno. Il mondo lo aveva già dimenticato e tra disgrazie e glorie nascevano altri eroi e altre storie. Oh yeah!